E' la canzone che segna la fine della gavetta e l'inizio del successo, pubblicata con un gruppo che poi viene lanciata in radio, pensate da Renzo Arbore, a cui vorrei destinare un applauso da parte vostra che ne intuisce il potenziale e la trasmette nel programma di punta Radio Rai che era per voi giovani. La canzone diventa colonna sonora di un'epoca, travolge le classifiche con più di 4 milioni di dischi venduti nel mondo, non ha bisogno di alcuna presentazione e tra le canzoni italiane più conosciute al mondo, Fausto Leali a chi? Allora, qui c'è bisogno del coro subito, io faccio la prima A, vediamo che forza avete, ok? Prego! Sorriderò se non a te Ormai è finita, è finita La canzone non a te Ma forse vado è finita, è finita, è finita del coro subito, a ti E qui io parlerò se non a te, a chi raconterò tutti i sogni miei. Lo sai, hai fatto male, lasciandomi solo così, ma non importa. A chi io parlerò se non a te, a chi racconterò tutti i sogni miei. Lo sai, hai fatto male, lasciandomi solo così, ma non importa. A chi racconterò tutti i sogni miei. A chi racconterò tutti i sogni miei.